Sono il ChiaCaO Manager e mi occupo di seguire i più importanti depositi dentali. Il mercato italiano storicamente è stato uno dei più importanti per il nostro gruppo e nonostante l'arrivo di nuovi players e i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, continuiamo ad avere un'ottima reputazione sul mercato e un forte potenziale da sviluppare. Nel 2015 continuerà anche la nostra focalizzazione sui fabbricanti di Riuniti, una realtà storicamente italiana, fornendo soluzioni all'avanguardia e personalizzate all'esigenza del cliente. B&R è il produttore numero uno al mondo di micromotori. Siamo presenti in più di 100 paesi con filiali e partner strategici e internazionali. La qualità B&R è da tutti riconosciuta come un must nel settore del dentale e i prodotti sono 100% Swiss Made. La tecnologia è sempre più all'avanguardia. Siamo sempre più vicino al nostro target di riferimento, il dentista, a cui diamo un servizio di alta e altissima qualità. Siamo più competitivi con una politica di prezzi interessante e convenienti, ma soprattutto come un nuovo modo di essere sempre più al servizio del nostro cliente. Insieme ai depositi, durante i nostri corsi, tutte le attività congressuali, facciamo training specifici ai nostri clienti, mettendo a disposizione materiali, prodotti e soprattutto i nostri specialist presso gli studi dei dentisti. B&R è specializzata nella produzione di strumenti notanti. I nostri obiettivi nei prossimi anni sono di continuare a seguire questa linea di prodotti, per mettere sul mercato strumenti performanti, unici e silenziosi, una delle caratteristiche sempre più richieste dal dentista. Il 2014 è stato l'anno dei grandi cambiamenti e anche il 2015 è per noi un nuovo inizio, un cambio non solo nelle politiche commerciali, ma soprattutto nelle strategie di business. La struttura della filiale italiana ha avuto un cambiamento ed è stata rinforzata, con l'entrata di nuove figure più focalizzate sul marketing e sull'attività di vendita. Anche la sede di Biennial Italia a Milano ha avuto un restyle, spazi nuovi, più luminosi e moderni. All'interno anche un piccolo showroom per far conoscere e toccare con mano i nostri prodotti e strumenti. Il marketing e la comunicazione sono sempre più focalizzati sui nostri prodotti, sulla qualità e sul servizio che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Ci siamo rinnovati, questo nuovo look è in ogni nostra comunicazione. Evento, congresso e fiera. Dare un servizio completo al cliente significa seguirlo dal momento dell'acquisto a tutta la durata di vita dello strumento stesso. Questo è sinonimo di un servizio post vendita doc creato su misura per il medico, nostro utilizzatore finale. Noi ci differenziamo dai competitors cercando di mettere a disposizione un servizio qualitativamente alto e sempre attento alle esigenze del mercato, rispondendo velocemente alle richieste del medico e trovando tutte le soluzioni migliori per lui. Abbiamo creato un sito apposito dove il cliente può confrontarsi direttamente con noi, accedere a tutti i servizi a lui dedicati, effettuare domande, fare richieste dirette e di riparazioni senza intermediari. Questo semplicemente entrando a far parte del Club BNR. Naturalmente il nostro servizio After Sales resta sempre a disposizione del medico sia attraverso il Club che dai nostri uffici per avere sempre un'interfaccia continua e costante. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!